Dopo aver gustato le prelibatezze di casa Breda, vi auguro una serenissima Pasqua Granata, con una raccomandazione. Bottiglia di champagne già in frigo, pronta per l'uso, ma manteniamoci ancora calmi per un po', poi esploderemo e festeggeremo insieme per un po' di tempo, almeno per un mesetto. E infine, a patrono Tito, corona il mio sogno, portaci in Serie B. Mi unisco agli auguri di Andrea. È da un po' che manco da Salerno, però anche nel giorno di Pasqua ho un pezzo di Salerno qua. Manca ancora un po', non è ancora facile, però certamente spero anch'io di venire a giugno e aprire insieme a Andrea la bottiglia giusta. Tanti auguri!